Omnitech Omnitech nasce 11 anni fa grazie all'esperienza precedente di lavorazione di materiali compositi. Il nostro materiale principale è il Technoril, un composto nobile, realizzato anche grazie alla stretta collaborazione con un docente dell'Università di Padova. Grazie al Technoril siamo diventati il primo produttore italiano di acrilico a freddo un innovativo sistema di produzione a basso impatto ambientale. Il nostro prodotto tipo si focalizza nell'ambiente bagno, realizziamo quindi piatti doccia, vasche da bagno, catini e lavabili. Panotech è un'azienda che conoscevamo grazie alle referenze dei nostri clienti che ce ne hanno parlato molto bene. Il primo incontro ufficiale con l'azienda è avvenuto al SICAM di Pordenone. Panotech ci è venuto incontro proponendoci una soluzione adeguata alle nostre richieste in quanto il nostro prodotto va via all'80% circa su fuori misura, quindi fuori standard. La nostra difficoltà principale era quella di riuscire a garantire un adeguato rifornimento di imballi che soddisfacessero le dimensioni del prodotto finale. Con una soluzione on demand e puntuale abbiamo risolto egregiamente questo problema. Dopo un mese di rodaggio le tempistiche di imballo si sono adeguate a quelle precedenti, non voglio dire necessariamente ridotte ma adeguate e mi sento di dire che nessuno oggi tornerebbe indietro. Nel 2014 avevamo 88 tipi di scatole che andavamo a riordinare con cadenza a seconda della necessità e ciò nonostante, essendo il nostro prodotto a misura al centimetro, dovevamo tamponare lo spazio rimanente tra un imballo e lo step successivo con del polistirolo o dell'altro prodotto che garantisse una certa stabilità all'imballo. A oggi, stampando a seconda della tipologia della famiglia del prodotto, gli imballi che tengono conto come maggiorazione solo del polistirolo adatto a quel tipo particolare di prodotto, il problema non sussiste, l'imballo è molto più stabile e resistente e quindi questa è un'altra cosa che porta a favore di Panotec. Prima di adottare la soluzione Panotec, i nostri innanzitutto erano imballi di un unico tipo, quindi erano delle scatole americane classiche, mentre adesso riusciamo ad adottare soluzioni diverse a seconda del prodotto. Avevamo un imballo, tuttora lo è certificato CATAS, quindi non avevamo contestazioni durante l'anno se non quelle minime dovute al trasporto. Con l'adozione di Panotec non abbiamo avuto un calo di prestazione dal punto di vista dell'imballo. Oggi per ogni tipo di prodotto e di famiglia riusciamo ad adattare la tipologia di scatola da americana, stesa o altro a seconda delle nostre esigenze. La soluzione fornita da Panotec è la Compact 2.5 con quattro magazzini cartone. Abbiamo adottato anche la soluzione side by side che ci permette di raddoppiare la capacità magazzino. Abbiamo adottato una soluzione complete on demand, ciò ci permette di stampare in alta qualità monocromatico sul esterno dell'imballo. Ciò ci permette di personalizzare per ogni singolo cliente o per famiglia di prodotto l'imballo dall'esterno. Una volta deciso di adottare una soluzione di imballaggio su misura, la nostra scelta è ricaduta sul sistema box on demand di Panotec. La scelta è ricaduta sul marchio Panotec per vari motivi, non ultimo le referenze di nostri clienti, il passaparola, la qualità del prodotto finale e non nego la vicinanza del fornitore.